Ciao, siamo i PON! Inizialmente eravamo in cinque, poi con tre chitarre, poi gli altri due chitaristi se ne sono andati, siamo arrivati noi tre. E qui che suoniamo da anni qua. Due al basso, io la batteria, due re chitarre alla voce. Noi abbiamo tutti influenze molto diverse, per noi è semplicemente importante suonare, sempre di noi che il pubblico. Non sappiamo neanche noi in realtà dove andiamo, quindi è inutile descrivere il sound, perché per adesso ci piace questa roba, per magari un giorno lo capiremo. Cerchiamo semplicemente di essere più trasparenti possibili. Non siamo come quei tricchettooni che pensavano di dover aprire le porte della percezione. Noi vogliamo prendere a martellare gli stip, di buttare tutto giù, perché non ci sia nessuna differenza fra quello che siamo e quello che percepiamo. I testi li scrivo io, sono in italiano perché non sono inglese, parlano delle enormi possibilità che l'esperienza umana ci offre. E quindi ogni volta cambia. Sta a noi poi l'esperienza in posto. Ci sono un sacco di concorsi, però tante volte sono delle truppe, devi pagare per suonare, è la corrida. Ci piacciono un sacco di altri gruppi, di Torino e nonno. Ce ne sono tantissimi. Sì. I nostri compagni di sala a prova si chiamano di Philadelphia Experiment. Loro ci piacciono molto, ma sono un amico preferito. Anche perché non rende. Non renderebbe... Siamo meglio del vivo. Siamo meglio del vivo. Siamo inconsapevoli di spararci a 3.500 erai. Ciao Eremo il 7 marzo, alla storia, con i Giant Sweet e il titolo Sparta. Ciao! Ciao!